Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Dragon Ball Z Dokken Battle, ovviamente come potete vedere nella versione global E questa volta però siamo nell'account secondario Come potete vedere abbiamo 300 Dragonstone da andarci a spendere nell'evento ovviamente di Gogeta Super Saiyan Perché oltre ad averlo trovato nell'account principale, nella serie principale Bisogna trovarlo anche qui assolutamente perché quest'account andrà ad uno di voi Quindi speriamo di sbocciare assolutamente Non vi faccio tutte le premesse del caso perché ormai ve le sto facendo Già non so, credo da settimane perché dipende questi video in quanto ve li faccio uscire Come vedete, io comunque lo capirete anche dalle 68 ore rimanenti Vi sto registrando video uno dopo l'altro Appunto per non perdere tempo e quindi per farveli uscire una dopo l'altra Quindi, ovviamente l'esame non sto parlando Quindi direi di iniziare subitissimo a bomba Andiamo con la prima multisammon da 30 dell'evento di Super Gogeta E quindi, però mi sa che dopo questa qui andiamo un attimo a dare spazio a quella di Super Janemba Perché, vabbè, poi vediamo, mi regolo un attimino di conseguenza Quindi iniziamo subito Prima sammon, prima multisammon Goku, per favore, mani al cielo, regà Qui dovete alzare Né release Rainbow, né Super Saiyan, né secondo livello, né terzo livello Cosa ci può mai uscire da qui? Sono curiosissimo di vedere ora, eh, cosa ci esce Prossima Seconda Dai Vediamo Mr. Satan Già ci esce Souser e Mr. Satan Quindi, già voglio dire Hercule O Mr. Satan Appunto Bardak SR Niente, niente male Questo qui, questo video, cerchiamo di andare un pochino più veloci Perché gli altri mi sa che saranno venuti tipo lunghissimi Quindi qui speriamo di andare un pochino più spediti Anche se voglio trovare il mondo in questo video assolutamente Nel giapponese, regà Non so se ve l'ho fatto uscire prima, ma Credetemi che è stato un qualcosa di spettacolare Purtroppo non come si sperava Comunque Prossima C18 C18 rara Va benissimo Non che mi interessi più Tanto sto morendo dal caldo Mi sto sentendo male Tipo, dovete credermi C'ho una tensione addosso pazzesca Prossima Dai, prossima Maestro Munten SR Non che ce ne possa importare più di tanto Quindi Prossima Dai, questa è quella buona Oh, di nuovo Bardak SR Super Saiyan, voglio dire Che non dispiace come personaggio Però non è lui che cerchiamo Prossima, mani al cielo Krilin Krilin raro Non perdiamo altro tempo su Krilin Prossima Dai Ah, Goku Super Saiyan Goku Super Saiyan SR Quello lì che ovviamente si può Dokken awakenare al Super Saiyan God Però Ha voglia far uscire di nuovo L'evento per awakenarlo Quindi Voglio dire Per il momento è praticamente inutile Però se lo trovate Tenetevelo assolutamente Anzi Portatevelo a SSR Magari Ora non so Però tenetevelo Cell Junior raro Va bene Prossima Per favore Gohan Super Saiyan Ne abbiamo trovati 3000 Tra il Global E questo qui Quindi Prossima Eh, niente prossima Sono finite Quindi prima Multisammon è andata davvero Molto, 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 molto male E ancora molto male Perché ce n'è soltanto una di Multisammon? Ah no, ok Ne abbiamo rimanenti delle altre Eh, quindi, 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 quindi Andiamo con Queste altre Multisammon Multisammon da 50 Anche qui cercheremo Di provare a fare La Multisammon gratuita Quindi speriamo bene Intanto sto facendo 3000 rumori Ma sono teso Ve l'ho detto, regà Questo è l'evento dell'anno Ve lo sto ripetendo ormai Da un paio di video a questa parte Ma Aspettavo questo evento da una vita Sulla serie principale Fortunatamente è andata Meglio di come speravo E quindi Sono contento Sono molto, molto contento Spero lo siete anche voi E spero che anche voi Abbiate trovato davvero Personaggi fighissimi Come Gogeta, ad esempio Quindi Piccolo Prossima Niente, oggi sto facendo Dei film incredibili Con il prossimo Perché Clicco ma non clicca Quindi, nappa Prossima Vegeta Super Saiyan SR Non me ne può importare De meno Quindi, prossima Dai Almeno la decenza Di darmi un SSR Cioè Abbiamo fatto Quante ne sono Quattordici Quattordici personaggi Sono usciti per il momento Tredici Quindi voglio dire Dopo quattordici o tredici personaggi Sarebbe anche l'ora Di un SSR No? Prossima Dai Niente Troviamo un altro Nappa SR Prossima Prossima Kaioshin Prossima Prossima Kaioshin Prossima Mane al cielo Tenzing Niente Questo video Davvero Non vuole Sbocciare Però io Comunque Comunque Mi aspetto Sempre Qualcosina Più tardi Eh Prossima Magari adesso O magari Da qui a brevissimo Vediamo Trunks Ragazzo SR Ovviamente Del futuro Prossima Questa è stranissima Questa è molto strana Questo barter Non l'ho mai visto Così Tra l'altro Con quella Con quell'ombra Vabbè Comunque Prossima Dai Non ci credo Secondo molti summon Usciti malissimo Davvero Cioè Ce ne stiamo uscendo Davvero Con le ossa A pezzi Qui E ci credo Che alcuni Comunque Mi hanno scritto Ora Non so Perché ho letto Soltanto i video Prima addirittura Questo video Ve lo sto registrando Come avrete capito Prima addirittura Che vi faccio uscire Il video In cui trovo Super Gogeta Nel global Tra l'altro Magari Se mi ricordo Vi lascio il link In descrizione Dove lo troviamo Però leggevo Di gente Che aveva speso 200 Cioè Uno di voi Aveva speso Ad esempio 200 Dragonstone Nell'evento Non trovando Praticamente Nulla Cioè Non trovando Almeno Gogeta Ora non ricordo Se aveva trovato Qualcos'altro C'era invece Chi trovava Due Gogeta In una Multisammon Roba incredibile Fortunatamente Noi ce lo siamo Portati a casa Però qui Non vuole uscire Non vuole assolutamente Uscire Quindi Vediamo Dai Dai Ce la possiamo fare C'è speranza C'è ancora speranza Primo personaggio Videl Miss Miss My Reizing Non riesco nemmeno A leggere tutto Girato Might Vabbè Comunque Prossima Per favore Dai Vediamo Krillin Trovato ormai In tutte le sasse Quindi Prossima Kid Bu Ma Fermi un attimo Non l'abbiamo già trovato Su quest'account Mi sta salendo il dubbio Ma forse l'abbiamo già trovato Forse questo è un doppione Quindi Andiamoci un attimo Con calma Perché sì Questo è un bel personaggio Tra l'altro Dai Kid Bu Abbiamo trovato Voglio dire Però potrebbe essere un doppione Forse l'abbiamo trovato nel Giap Comunque l'abbiamo trovato Sicuramente questo In assoluto In Dokken Battle Dai non soffermiamoci Più di tanto Prossima Trunks SR Super Saiyan Ovviamente quello in coppia Con Goten Però non ce ne può importare De meno Prossima Quindi troviamo Nail Vabbè Non ce ne può importare De meno Prossima Dai Dai Yamcha Che si potrebbe scambiare Un pochino per Gohan O per Gohan del futuro Ma è Yamcha Assolutamente Anzi Mai scambiare Gohan Per Yamcha O Yamcha per Gohan Prossima Dai Rif Rif Peccato Rif Chaozzi Come volete chiamarlo Chaozzi Quindi Per il momento Non sono We We Signori Signori Ultimate Gohan L'abbiamo trovato Finalmente Chiudiamo tutto Chiudiamo tutto Abbiamo trovato Ultimate Gohan Nel Dokken Festival Voglio dire Voglio dire Voglio dire L'ho cercato Per una vita L'ho cercato Per una vita Sul mio account E lo riusciamo a trovare In un account Che andrà a voi Sono contento Sono contento Se troviamo anche Super Gugita Che ve lo dico a fa Che ve lo dico a fa Prossima Mamma mia Eh si Giro vai Però voglio dire Gohan Signori Sono Sono emozionato Sono emozionato Dovete permettermelo Pazzesco Ci stiamo riprendendo Ci stiamo riprendendo Mano mano Abbiamo ancora un'altra Multisammon Da fare Quindi Tra l'altro Gratuita Signori Concludiamo qui Con un personaggio Che secondo me È un qualcosa Di Pazzesco Tipi agili Con l'attacco Del più 50% Secondo me Molto molto figa Questa leader skill E abbiamo una passiva Con attacco Del 70% In più Quando abbiamo Più di 7 ki Beh Voglio dire Voglio dire Qui raggiungere Con questo Gohan 7 ki O più Vuol dire davvero Avere quasi un nuker Non lo so Correggetemi se sbaglio Ma no Vabbè Avere un nuker No Però Voglio dire Voglio dire Troviamo comunque Un personaggio Del Dokken Festival Come potete vedere Infatti Super Gogeta Arrives News SSR Ultimate Gohan Empire 1 Are also here Quindi Voglio dire Io sono soddisfatto Per il momento Ovviamente Cerco sempre Tra l'altro Guardate quanta roba C'avevo da vendere Qualcosa di pazzesco Dai Vendiamo tutto Sperando di non vendere Gli SSR Altrimenti E' una cosa davvero Da suicidio Sarebbe Quindi Vendiamo questi Mister Satan Cioè raga Guardate quanta roba Da vendere Avevo Che ho ampliato Anche molti slot E comunque C'avevo tutta Cioè raga Sto tremando Dovete credere Anche perché Vi dico la verità Sto tremando Un pochino Perché sto registrando Da tantissimo tempo E sono emozioni A non finire Sto urlando Da una vita Perché Nel primo video Abbiamo trovato Super Gogeta Che solo lui Valeva tutto il video Abbiamo trovato Anche Perfect Cell Nel secondo Abbiamo trovato C13 E poi non ricordo Chi altro Nel terzo Del Giappa Abbiamo trovato Chiunque In questo qui Che mi sembra Che sia il quarto Non ricordo Comunque abbiamo trovato Ultimate Gohan Dell'evento Cioè raga Io non Non so più Cosa dire Questi video Comunque sicuramente Ve li starò facendo uscire Mano mano In settimana Però Compatitemi Capitemi Non so più cosa dirvi Ma Cercate di capirmi Se mi vedete un pochino Sfatto Un pochino Uff Mi sento male Mi sto sentendo Questa è una delle prime volte Che inizio a sentirmi Maluccio Nei video Cioè Inizio a Come se Come se Quasi ci fosse Un callo di zuccheri Quindi Infatti fra poco Lascio Perché mi sento La pressione bassa Secondo me Androide numero 17 Inizia a diventare Anche pesantuccio Fare video qui Quindi Krillin Mamma mia Che sudata Krillin raro Prossima Tai Alziamo le mani Vabbè Tai 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 Lassiamo le mani Dai Dammi questo super gogeta Che sbocciamo Una vita qui Sbocciamo una vita Su quest'accanto Per favore Cioè Ultimate Gohan E gogeta Due personaggi evento Se troviamo Gianemba poi Che ve lo dico A fare Krillin Prossima C18 Intanto il rumore Che avete sentito Non pensatevi nulla Ma è la sedia Giustamente Chi è questo Ub Va bene Ub ragazzo Quindi Prossima Per favore Per favore Tensing Vediamo SR Tensing SR Quindi Prossima Comunque sto soffrendo Tipo tantissimo Oggi Vediamo No Purtroppo Ci è capitato Goku Quindi Questa multisammon Mi sa che comunque Non andrà benino Prossima Trunks SR SR Super Saiyan Che non mi soddisfa Per nulla Quindi Prossima Non mi dire Ah Peccato Un vero peccato Perché Allora Questa summon Ma io Questo video È stato Una croce Edilizia Abbiamo trovato Un Gohan Che cercavo Che ho cercato Tantissimo Se vedete Il video Del global O meglio Il primo video Del global Quello lì Di Gogeta Però Purtroppo O meglio Forse il secondo Video Ora non ricordo Però Purtroppo Questo account Abbiamo trovato Solo lui Alla fin fine Cioè abbiamo trovato Gohan E forse qualcun altro Che comunque Bene o male Non mi interessava Troppissimo Ah Kid Buu Che bisogna comunque Chiarire se è stato Un doppione O altro Quindi Speriamo in questa Multisummon Rainbow Super Saiyan Primo livello Secondo Vediamo Niente terzo Niente terzo Quindi Vediamo Primo Zarbon Ho trovato 3000 volte questo Ve ne renderete conto Sicuramente Nei video precedenti Quindi Seconda Cell Forma Imperfetta Imperfect Cell Seconda Forma Quindi Prossima Vediamo Piccolo Raro Non me ne può importare Assolutamente Niente Quindi Prossima Daie Prossima Rif Jaozzi Ovviamente Questo qual è Il raro Prossima Daie Per favore Gohan SR Che non me ne può importare De meno Assolutamente Prossima Il Gohan Che dovevamo trovare L'abbiamo trovato E come Ma Raga Troppo bello Troppo Troppo bello Davvero Lo desidero Troppo Nella versione Principale Prossima Troviamo Kibitoshin O Kibitokai Molto Strano Come nome Kibitoshin SR Purtroppo Queste multisamon Non ci stanno Dicendo Troppo Devo Ammetterlo Quindi Piccolo Raro Non troviamo Ancora Nulla Gohan Super Saiyan Di Dragon Ball GT Non so se Questo No Non credo sia Quello lì Comunque Controllato Da baby Però Poco ci manca Bene o male Ah Peccato Vedevo la forma Strana Ho detto Ok Sta uscendo Chissà chi Invece Troviamo Gohan Bambino Si si può definire Gohan Bambino Questo qui SR Mani al cielo Non mi direi No Un altro epic fail Non ci credo Non ci credo Dai Cerchiamo di continuare E Vediamo di regalare il sogno Qui dai Per favore Ti scongiuro Gioco Fammi trovare Gogeta Fammi trovare Gianemba Abbiamo trovato Già quel Gohan Fammi trovare Almeno qualcun altro E poi davvero Possiamo concludere Qui Quindi Release Release Yellow Niente da fare Però Comunque ve lo dico Continuiamo pochissimo Poi Non ce la faccio più davvero Krillin Dai Ne abbiamo trovati 3000 di questi Pazzesco Dai Continuiamo ancora Con le single summon Davvero mi sento male Qui oggi Mamma mia Cioè Mi sento Come se Non ve lo so dire Una sensazione strana Sento un caldissimo Ma il condizionatore Acceso a palla Comunque Prossima Secondo Niente Niente terzo Quindi Dai Freezer Terza forma Per Per Dock and Battle Ma potrebbe essere Anche una seconda forma Nulla da fare Quindi 130 Dragonstone Vediamo Quest'altra Summon Da 5 Non vorrei Sfruttarmi Le altre Da O meglio Vediamo un pochino Vediamo se È il caso Quindi Release Yellow Vediamo Dai Dai Per favore Per favore Vediamo Niente Non arriva il By Guys Quindi ragazzi Io farei una cosa Direi di fare una cosa Anche se Davvero In questo evento Sto Ho speso Tantissimissime Dragonstone Ma davvero Tanti Vi farete il conto Vedendo tutti i video Di questo evento Ma davvero Ne ho spese troppe Io faccio una cosa Allora Abbiamo la possibilità Di farci Altre due Multisummon Da 50 E noi ce ne andiamo a fare Perché oltre a queste altre due Multisummon Ci possiamo fare anche L'ultima multisummon Che sarà gratuita Sto facendo anche una cosa Incredibilmente Sconsiderata Perché ve lo Vi ripeto Davvero Non mi sto sentendo Benissimo In questo momento Però dai Wow Ma questo è una multisummon Però voglio dire Però ci garantiamo L'SSR Ci garantiamo L'SSR Dai per favore Io ho inizio Ad avere il fiatone Qui però Dai Respiriamo Cerco di Allora Facciamo così Mi calmo un pochino Mi calmo un pochino Perché davvero Non ce la faccio più Qui Prossima Dai Tremo come un pazzo Non so Inizio a balbettare Voglio dire Voglio dire Voglio dire Dai Dai ce la possiamo fare Bulma Cerco di riprendermi Un attimo Intanto Perché davvero Non so se si nota Ma Davvero mi sto sentendo Poco male Prossima Dai Va bene Super Buu Con piccolo Assorbito Mani al cielo Dai Mani al cielo Goten Va bene Mi sa che qui ce ne usciamo Con un SSR Da questa summon Spero mi stiate sentendo Comunque bene Però regà Non ditemi nulla Ma devo allontanarmi Per forza Prossima Krilin Krilin Raro Vabbè Comunque Dai 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 che il sogno Ancora non è arrivato Ma me lo aspetto Assolutamente Prossima Dai per favore Wow Janimba Janimba Un altro Personaggio Evento Un altro Personaggio Evento Mamma mia Mamma mia Mamma mia Signori Signori Sto sputando Qualunque cosa Sto sputando Il mondo Ma vi regalo Un qualcosa Di pazzesco Qui regà Vi regalo Un qualcosa Di pazzesco Non so più cosa dire Cioè regà Super Janimba Super Janimba Non l'abbiamo nemmeno trovato Nel mio account Abbiamo trovato Super Gogeta Ma guardate qui Cosa vi vado a regalare Senza parole Senza parole Mi sono ripreso Mi ha dato energia Mi ha dato energia Allora Mi sto risentendo Di nuovo male Vediamo Signori Signori Voglio dire Super Janimba Secondo me Un video come questo Non l'avete mai visto Perché Praticamente Più che Intrattenervi Mi sto riprendendo Da tutto questo bordello Che stiamo facendo Ma Bello 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 Bel personaggio Davvero Mamma mia Mamma mia Possiamo farci Secondo me No dobbiamo farcene Un'altra da 50 Dai Facciamo una cosa Andiamo Direi di fare una cosa Concludiamo qui Se riesco Vi registro Un altro video Magari Con Vediamo Con un'altra Multisummon Con altre due Multisummon In realtà E poi Con qualche altra Single summon E poi concludiamo Qui con questo evento Che davvero Abbiamo trovato tutto Tra primo account Secondo account E Cioè tra primo account E secondo account Alla fine abbiamo trovato Super Gogeta Janimba E Ultimate Goan Di più non potevo Chiedervi Chiedervi Perché chiedervi O chiedermi Di più non potevo chiedere Davvero dal gioco Quindi ragazzi Detto questo Non ce la faccio più Davvero Sono sfinito Quindi spero che il video Vi sia piaciuto Anzi Proverò comunque A registrare un altro Però Spero Che ne valga La pena assolutamente Quindi spero che il video Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Condividete il video Mi fareste davvero Un grosso favore Per favore Davvero Ve lo ripeto Quindi vi do appuntamento Come al solito Ad un prossimo Video